Ragazzi, arriviamo con un po' di ritardo, ma perché stiamo preparando delle grandissime sorprese per voi? Lo sapete che noi siamo sempre dei manageri, che facciamo video, cose, ecco, vedrete in futuro. Arriviamo un po' tardi, e vi volevo scusare di questo, perché è arrivato il momento di aprire i testini incrociati. Qua, insomma, al negozio già sono stati aperti svariati migliaia di pacchetti, però non siamo riusciti ancora a fare il video. Ebbene, risolviamo questo problema. Spaccavolo in due. Oh, Gio, ricordami un attimo, ma... C'è stato il film qua dentro che ci piaceva un botto? Ma, tipo, c'è stato il nuovo Dante. Ah, Dante, Dante il pellegrino ardente. Ardente? Ardente? O scotto. Sì, sì, sì. Dante è sicuramente una di queste carte. Allora, vogliamo iniziare? Dai! Sbraitiamo e spacchiamo questo box fichissimo, come tutti quanti i box che apriamo, vede, gà? Ogni volta vi volevo ringraziare perché commentate talmente tanto che, giustamente, anche io e Giorgio, che siamo due esseri umani, non riusciamo a rispondere a tutti quanti. Mettete le vostre preferenze di mazzo, scambi di carte. Eccolo qua. Cominciamo con la sbustatona. Vediamo un pochino cosa troveremo di bello qua dentro. Comunque, sì, no, volevo continuare a ringraziarvi perché siete numerosissimi, perché ci fate sentire veramente dei fighi, cosa che non siamo, perché voi siete figli. Cioè, noi siamo solo il riflesso di quello che siete voi. Mettete tutte queste cose fichissime da ragazza? Intanto sbusto e vado avanti. Vedi quanti pendolo mi stanno uscire? A voglia, oh. Ma vi parlavano di alcuni trick fichissimi. Però poi, vabbè, magari lo faremo... Parleremo di questo nella sorpresa che stiamo organizzando per voi giovanotti. Fuffa, fuffa. Ah, fuffa sta diventando... A voglia, oh. A voglia. Ah, sì, 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 perché come l'ho accennato ci sarà una sorpresa. Dateci un po' di tempo, regà. Qui c'è sempre un sacco da fare, ma mamma mia. Questa è la seconda volta che ho già sbustato due pacchetti. Due mila di queste. Niente, foil ancora. No, foil, no, foil for us. Ma arriverà, arriverà. Ma se ne faccio ogni mese? Sbustate? Troppo. No, troppo. Non vi piace? Fammelo in italiano, fammelo in romano. Dai, zì, sto a sbustare roba forte, tipo artista Miku. Sbù. Beh, 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 beh. Ecco la prima foil. E dai, eh. Ragazzi, un drago si risveglia con un rocchettaro. Io ci credo che si sveglia. Quello è un figo. Eh, pure che si è un problema. Allora. Andiamo a venti. Giorgio, voi ci stai pensando tu a smistere le carte con la tua mano misteriosa? Mo' ce la penso io. Aspetta, eh, scusa. Le ho ammucchiate lì. Bablim. Bablim, 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 bablim. Orco, fantasma e coniglio della neve. Regà, che art. Che art. Questa l'avevamo già vista negli spoiler e ci era piaciuta un botto. Ammazza. Pintuner. Eh, voglia. Sincra gogo. Sincra mazzetta. Sincra mazzetta. Sincra. Comunque, volevo dirvi anche un'altra cosa. A Roma fa un caldo boia, quindi comincerete a vederci sempre più svestiti e la prossima volta sempre più sudati, quindi faremo proprio schifo. Bellice spavento, questo è il mio mazzo fruffalo. Uh, guarda che bobo. Ma questi zefra sono proprio forti, eh. Mazzarola, budino, buono, non ha fame. Certo, con questo caldo, magari nel caso. Vabbè, c'è pure uno che firma il contratto. Davvero? Sì. Sta tutto sbusto. Io sbusto, sì, sì, perché ragazzi so che il vostro tempo è prezioso, quindi noi proseguiremo con queste sbustate quasi alla cieca, mandando come pazzi. Beh, oh, beh, beh, bello. A me comunque, cioè, stel cavaliere, mi piace. Eh, sei sempre del marzo zefra. S39, un altro 39. Eh certo, utopia, un miliardo, regà, utopia prime, un boro. Tiè. Dato che siamo dei borelli anche noi, lo mettiamo subito qua in vista. Chi è questo po' che firma il contratto? Ma chi è che firma il contratto? Uno ricco. No, uno che diventa famoso adesso. Uno che diventa giocatore. Vabbè, ma andiamo avanti. Certo, con qua faccia. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo un pochetto. Che c'è di da fuori? Qua sta bustina mitica. Non la sento caldissima, sta bustina. Oh, ma, ma, ma. Falchetto. Falco rivoluzione. Il latte è bellissimo. Sì, regà. Questa fa tagliare. Bambolombra. Sempre zefra. Eh già. Hanno fatto sì zefra, bambolombra, negros. Sì, ci sta. Il caravaliere, tutte queste cose strane. Sono fighi, sono fighi. Sono fighi, sono fighi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Che mi ispirano, poi non so. Oh, oh. Questa non te la troviamo, dai. Su, su. Ci siamo pieni al negozio. Un altro mazzo per Burning... Sì, un altro mazzo. Un'altra carta per Burning Abyss. Eh già. Che poi, onestamente, a me... Oh, oh, regà. A me Burning Abyss, a Burning Abyss, a Burning Abyss, spiace un botto, perché? Perché lo sapete che sono un tipo fissato con le art delle carte e, ah oh. Cioè, a me le art del Burning Abyss sono... Per me sono insuperabili. Non so voi. Faremo delle piccole retrospettive, poi, un giorno, quando ci andrà e ci avremo tempo. Parleremo di quanto sono fighi le art di alcuni mazzi nuovi. Un altro. No. Dai. Ma io ce l'avevo il preset. Questo non si firma un altro contratto. Ce ne avevo uno, si firma sempre contratti. No, ce ne avevo un po' di quelli set qua, giro da parte. Va bene. Meglio avercene più di più che di meno. Che di meno, certo. Quanto i giocatori di Burning Abyss ci sono sempre. Trovano sempre il modo di usarle, le carte nuove. Eccole qua. E va bene. Che simpatico, però, eh? Con la tua faccia da persona sveglia, questo elefantino che manco mi vado a farvi vedere più. È un artista amico. Un artista amico. Che comunque sia... Che vuole la tutta start e che ti piace una cifra. Ti piace? Ah, voglio. Quello ci piaceva già all'epoca. E questo qui è un altro. Un altro falco. Mettiamolo qua. Il mazzo arpie. Un'arpia. Che carina che hai questa qua. Arpista arpia. Tutta arpia. Questa suona forte e vola forte. E meno forte. E meno abbastanza pure. Ma sì, sì, sì. E poi continuiamo a trovare... La roba Zefra, questo che firma il contratto. E i firmatori di contratto. Chi ha... Drago di Magma. Questa è una ristana. Sì, questa è una ristana. Con carucci. Con carucci. Sono carucci. Comunque la star è quello che firma il contratto. Abbiamo deciso che è lui. Perché lui è la nostra carta principe. È il boss. E trovi un altro questo. Sempre farco fiammata. Ecco qua. E via con... Zefra! Ole. Gru? Du? Du? Ma si fluffa? Fluffa li tengono sposti. Ce stanno un botte le fluffa. Un boato. Un boatius. Ovviamente poi se stanno fanno tanti il mazzo fluffa. Sì, sì. Beh, è un mazzo tranquillo anche da fare. Quindi insomma... Scudo! E Drago. Scudo di Magma. Drago di Bagba perché sono raffreddato. Che come fate a parlare certe volte non si sa. Io perlomeno. È un miracolo oggi che c'è un naso stappato. Cioè, sentite come respiro bene. Sono figo. Maronno. Fortuna che ci sono le carte che ci salvano, Gio. E non ci guardano in faccia perché altrimenti è proprio la fine. Questo è sempre per il fluffa. Sì. Sbò. La bestia spirito. Ragazzuoli. Guardate che bellina questa qua. Questa è una bella carta. Questa è una bella, bella carta. Tra l'altro mi piace come l'hanno resa qua con... Perché è misto tra liscio e alti. Sì, sì, sì. Mi piace un botto. Faccio vedere col riflesso magari. Si vede? Vai, vai. Vai Giorgio. Fai la magia. Non si vede. Non si vede. Niente magia per Giorgio. Poi magari faremo un riepilogo e faremo vedere meglio questa carta spazzesca. Troppa luce, troppa luce. Troppa luce, sì. Ci irradiamo ormai. Sempre Zephra. Questo è il Zephra di O'Jansing. E' lo Zephra del Bambola. E' Zephra pure, di questa deleros. E basta. E' il cammino Zephra. Come lo famo sul mazzo Zephra, no? Beh. Ma lo vogliamo sgravar un pochino. Ma proseguiamo in questa... E non finì pure i pacchetti, eh? Chiacchieriamo, chiacchieriamo. Intanto i pacchetti volano. Un rottame. Oh, 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 oh. Ma torna rottame. Sì. È Zephra. È Zephra. È Zephra. È Zephra. È un altro Zephra. È troppo bello. Dov'eri andando a scuola, regà. Però questo mi sta simpatico, per quanto ci abbia una faccia un po' da fessa. Ma perché ci affascino. Lo vedi, è fascinoso quanto questa chimera. Ecco. Questa è la chimera Sppliccia Sp... Eh sì, Belliccia Spavento. Sempre la grandissima... Oh, oh, oh. Tremo, 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 tremo. bellissima sta volta ma voglia ti piace? e porca miseria se mi piace guarda te lo mi sa la guarda è un mazzo pure quello firma questo firma continua a firmare questi qui continuano ad essere zebra tutti i tipi bello questo mi piace mi piace ecco l'altro pacchetto con un altro i fluffal la pecorretta fluffal i pecorons la rinascita la rinascita e la zephra e il cammino da zephra e camminiamo e andiamo e andiamo e andiamo non lo so andiamo noi stiamo qua stiamo qua stiamo qua a sbustaccarti allora la titan zapitan zapiton zan zan questo è la zephra domatore bestia domatore bestia spirito per il bestia spirito ti ricordi chi è questo? no devi ricordare aia mi sono poco preparato sui bestia spirito aia giorgio qui siamo allora questo lo chiedo a voi voi vi ricordate chi è lui? io sono sicuro di sì scrivetecelo sui commenti scrivetecelo sui commenti e approfitto per dirvelo raga piuttosto che fanno la fine perché è sempre noioso lo faccio in mezzo cioè raga se vi piacciono sti video se vi diverte guardare le nostre brutte facce sentirvi migliori potete mettere vi piace ma come fanno a piacere le nostre facce? magari perché li fanno sentire meglio quando siete tristi guardate le nostre facce mettete mi piace commentate e comunque sia se volete divertirvi a seguire le nostre peripezie sbustate aperture strane e così via seguiteci nel nostro canale che è da qualche parte qua sotto potete iscrivervi o qua sopra da qualche parte del mondo è facile siamo sempre noi intanto intanto io sbusto e parlo e ci vediamo un'illusione melodiosa e poi oh un tel cavaliere chiedo scusa ragazzi tolomeo raga chiedo scusa tolomeo lo vedete sto ditino bim 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 quel ditino che mi mette fuori fuoco con la telecamera certo lo faccio apposta perché così mettiamo tolomeo yeah magari ci sta quello che firma il contratto no che pizza feccato sono preoccupato non ha firmato qualcosa allora senti quello secondo me fa la stessa fine di goblinberg non sapete quanti goblinberg abbiamo trovato nella nostra vita di sbustate ce ne eravamo forse 200 alla romana che so che vi piace au sono finiti tutti sono finiti tutti altra domanda sapete perché sono finiti tutti quanti goblinberg? andiamo a vedere che ci riserva questo packet ma che borro dragone io poi mi sento un po' un drago quindi ecco qua ma qui sono i dragoni marini marini e vabbè ma a me piace pure nuotare quindi posso fare tutti e due sono due pacchetti dos pacchetti sono rimasti namio namio Gio namio 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 e fai con la sbustata ho pure sputato Gio non so visto non so visto illusione e rinascita potente poterosa potente poterosissima potentissima e poi vari draghi basta potente non aggiungiamo no non basta non aggiungiamo che sennò il baffone del Gio 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 si arrabbia signor Gio 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 l'ultimo l'ultimo the last one siete pronti? siete pronti? qui ci troviamo Chou Feng Chou Feng che vi dico che qui non è venuto fuori la roba che cercavo sono piuttosto triste boh no niente è un impo però ah rega ho scelto male di solito ho scelto i box e le cose vanno bene ma insomma non ci possiamo lamentare avete visto qua una piccola anteprima delle carte che si possono trovare all'interno di questa espansione quindi ci sono un sacco di carte di questo tipo di pendulum già esatto che vi possono piacere poi ci sono alcuni Xyz nuovi che sono i Ride Raptor perfetto abbiamo due tipi Falco Fiammata e Falco Revoluzione poi abbiamo visto che hanno ristampato cioè hanno stampato qualche bestia spirito particolare che ci sono insomma se adesso si mette a fuoco io non metto l'idea in mezzo magari ci riusciamo anche a vederla in più un nuovo 39 esatto un nuovo 39 che insomma Tolomeo che Tolomeo che ha un nome molto figo e poi questa mi piace tantissimo una carta questa è quella figa che non si esca bene bene carta fighissima allora io non rinnovo ancora una volta il fatto di iscrivervi se vi è piaciuto il video mettere mi piace se vi è piaciuto il video iscrivervi al nostro canale se vi è piaciuto il video non lo dico un'altra volta non c'è bisogno quindi nemmeno di commentare non serve no commentare anzi tra l'altro oh avete visto le domande sì cioè avete sentito le domande visto le domande rispondeteci perché magari potremmo fare qualche sorpresina a qualche duro bam 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 quindi vi saluto signori grazie per aver visto questo video e aspettatevi qualche sorpresina stay love mi fanno male lì mi somiglio no christian il bodyguard ringraziamo christian per averci fatto da bodyguard non è servito perché adesso è aperto adesso è il video allora oh figo grazie